Il ristorante Laguna si trova a Jesolo, lungo la via Bafile, nella zona centrale del paese. D'estate, la sera, la strada principale viene chiusa e si dà la possibilità ai turisti di passeggiare. La nostra cucina è una cucina prevalentemente a base di pesce. Valorizziamo tantissimi prodotti che peschiamo dal nostro mare e dalla laguna. Ogni giorno potete trovare un pescato sempre diverso. Usiamo anche tantissimi prodotti però che vengono dall'estero, come le ostriche francesi. Abbiamo sempre una grande selezione, arriviamo anche a 10 tipi diversi di ostriche e anche qualche ostrica italiana come la perla del delta, che è un'ostrica che a noi piace tantissimo e trovate sempre nel nostro menu. Oggi abbiamo presentato alcuni piatti che sono rappresentativi della nostra cucina. Il primo che vi voglio presentare è il risotto. È un risotto al gambero rosso. Il risotto ha del gambero cotto all'interno e mantecato, ha il gambero rosso crudo in tartare al di sopra, una leggera crema di ricotta salata e una spolveratina di lime. Un altro piatto è la catalana di crostacei. La catalana di crostacei cambia ogni giorno in base al pescato che troviamo. Potete trovare dei gamberi, degli scampi reali, delle ragoste, degli astici. La nostra catalana viene grigliata e servita, accompagnata da delle verdure come la ricetta tradizionale. L'ultimo piatto di cui vi parlo è il carosello di crudo. Una degustazione di pesci, crostacei e molluschi, dove potete trovare le ostriche, le capesante nostrane, i carpacci, i branzino, i ricciola, la tartare di salmone soccai, la tartare di tono rosso, tutto condito con dell'olio, sale e pepe. Iaesolo sempre più è una località che vive tutto l'anno. Per questo abbiamo deciso di tenere aperto tutti i 12 mesi per dare la possibilità a turisti e residenti di venirci a trovare.